Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo posto è per voi. Sono a Sauris, il comune più alto del Friuli Venezia Giulia. Siamo a 1.400 metri e questa è una perla incastonata tra le Alpi Carniche. Rimarrete a bocca aperta ben prima di giungere in paese. La strada che da Ampezzo porta a Sauris, dopo l'ultima galleria, si aprirà sull'omonimo lago per offrirvi un bellissimo spettacolo. Famosa per i suoi prodotti enogastronomici come il prosciutto crudo, lo speck e la deliziosa birra artigianale, Sauris è una località perfetta per coniugare buon cibo, sport e relax. Anche oggi sarà una giornata attiva, faremo un tour naturalistico in motoslitta accompagnati da Stefano. È la prima volta che mi trovo alla guida di una motoslitta. Stefano Cesco mi istruisce, in particolare sullo spostamento del peso, mi raccomanda prudenza e mi suggerisce di fare qualche giro di prova, finché non mi sento sicura. Il percorso scelto è la strada che da Sauris di sopra porta a Sappada, passando da Caserarazzo. Il panorama è fantastico, divertentissimo goderselo guidando la motoslitta. Stefano è un accompagnatore della simpatia coinvolgente, oltre ad essere appassionato conoscitore del territorio. È un tour che consiglio a tutti, gruppi di amici, coppie e famiglie. Vestitevi come se doveste andare a sciare e non dimenticate di coprirvi il capo, portare i guanti e gli occhiali da sole. Facciamo una pausa all'agriturismo dove gustiamo piatti tipici saurani. E una volta tornati giù, un giro sulla romantica slitta di Mauro, avvolti dal silenzio del bosco, non me lo toglie nessuno. Una sensazione bellissima e differente dalla tradizionale cavalcata, quella che si vive sulla neve. Prendo confidenza col ritmo insolito delle zampe che sprofondano in neve fresca e azzardo una galoppata, incoraggiata da Massimo Peressone. Qui a Sauri si è obbligatorio concedersi un momento per se stessi. Lo faccio al Borgo dello Sport, un centro benessere dove mi rilasso in piscina e provo la sauna di fiene. Metodo che permette di eliminare le tossine, illuminare la pelle e rinforzare il sistema immunitario. Siete pronti per un bel weekend Saurano? A voi!